Salve da Michele Expert Oggi, giorno di Ferragosto 2024, mi trovo a San Fili in provincia di Cosenza, vista poco da Cosenza, nella prima parte della giornata vado a cogliere la parte storica, antica, si potrebbe dire anche medievale, di San Fili, a seguire al monastero di San Francesco, poi al Piccinic e poi verso Paola. Queste sono le traiettorie di oggi, le direzioni. Posto fresco, al momento tutto sembra abbastanza respirabile, l'aria buona qua. Fontana con acqua veramente freschissima, quasi congelata. Ho preferito questo posto perché c'è una pelle frescura in questa zona, tanta vegetazione e anche l'acqua penso che ci sia. Già della fontana fa ben sperare. Adesso io bevo comunque. Ecco qua un'altra rappresentazione. Si dice che San Fili vuole che sia il paesino delle streghe. Secondo una leggenda, una strega si trova sempre in circolazione per difendere i buoni contro i cattivi. Ogni tanto qualcuno dice di vederla. Questa è un'altra rappresentazione. 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 o 300 metri 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti